Il suo testamento artistico lo si può individuare nei versi di Andy Mohan, una poesia scritta nel 1817 a Londra. Il poeta, che inglese, proveniva da una modesta famiglia, ciò nonostante è riuscito gradualmente a scrivere delle cose meravigliose, cioè ha dovuto studiare non regolarmente, però nonostante ciò è andato avanti. A lui cosa possiamo dire? Possiamo dire che ci ha lasciato un po' nel dubbio fra la ragione e l'essere, cioè un dubbio che ci coinvolge tutti, giovani e anziani, però attraverso la sua lirica sparisce tutto, è un mondo leggero di volare.